buongiorno ragazzi se anche voi volete rimanere sempre aggiornati sui video di bancomatti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video inoltre i bancomatti hanno aperto anche un canale telegram basterà scaricare la app e digitare bancomatti nel cerca troverete il nostro canale mi raccomando iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sulle nostre bombe di mercato amazon grazie e buona visione ciao ragazzi popolo youtube fucca 88 i bancomatti presto oggi i bancomatti vi portano un cashback portiamolo scandito bene ok perfetto allora questo cashback è su un prodotto molto particolare spettacolo praticamente è un estrattore di umidità un'antiumidità utilissimo in molte occasioni in molti appartamenti cantina stanza un po chiusa casa al mare proprio una roba spettacolare allora micchi adesso finiamo un attimo del angolino poi illumidaci della situazione perfetto ok vai ci siamo sì ok ragazzi praticamente con l'assorbi umidità aereo 360 di aria sana riceviamo un cashback del valore complessivo di 10 euro e 90 il più delle volte l'abbiamo visto in offerta a 8 euro 9 euro a noi ci viene rimborsato fino al tetto massimo nel senso se spendiamo 9 non ce ne danno 10 90 ovvio ok adesso vi spieghiamo bene prima di tutto come se scontriamo 11 non ci danno 10 90 bravo prima di tutto scontrino parlante se no non ci si muove almeno così siamo sicuri poi per avere cashback dobbiamo acquistare i prodotti aero 360 o aero 360 pur di aria sana alcuni casi ci hanno detto che vanno bene anche le ricariche però atteniamoci sempre a richiedere prima poi in uno dei punti vendita che dirisce l'iniziativa cioè se vende quelli con la confezione scritta sopra o è a volantino o è in scaffale fotografate sempre che ve lo cagnete come materiale di scorta comprate questo prodotto entro cinque giorni dall'acquisto bisogna andare sul sito che vi linkiamo dell'operazione registrare i dati e entro 24 ore ci mandano un link da cliccare ottimo tutto questo serve per far partire il meccanismo del cashback dove noi avremo inserito i nostri dati avremo inserito le scansioni che testimoniano l'acquisto avremo inserito anche i dati tipo bonifico o carta ricaricabili ma dove possiamo ricevere il cashback poi ogni persona può richiedere 3 cashback ma su scontrini differenti non puoi acquistare 3 aria sana e ricevere 3 cashback inoltre sul scontrino devi fare tre scontrini il tuo margine ne puoi richiedere 3 perfetto il termine massimo per richiedere tutta per attivare questa procedura è il 18 di marzo quindi a voi ce n'è di tempo ce n'è di tempo poi vi abbiamo spiegato il concorso il prodotto le modalità e i tempi se avete qualsiasi cosa chiedete saranno sempre disponibili a scrivervi proprio ci siamo così siamo proprio spiegato tutto quanto nel dettaglio il rimborso in 380 giorni il solito meccanismo di concorsi classico ci siamo abbiamo detto tutto a questo punto da una re grande ok devo precisare una cosa precisa precisa tre rimborsi tre scontrini diversi ma su tre lettere diverse non tutte insieme nello stesso nella stessa posta quindi proprio tre cose diverse non spedite mai con franco bollo comunque c'è scritto tutto il regolamento spedite sempre con posta tracciata basta che ho chiuso le virgola a questo punto mi che io direi un grazie mi raccomando iscrivetevi al nostro canale telegram come avete visto all'inizio del video che risparmiate tanti soldi esatto seguiteci su facebook instagram e twitter mi raccomando continuate a commentare spolliciare come state facendo siamo sempre più felici dei vostri commenti vuoi vedere se vuoi vedere se vuoi ascolto vediamo 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 solo in questa settimana il video 200 risposte che hai ricevuto grazie mille veramente veramente grazie di tutto e grazie di cuore un abbraccio mancomando ciao ciao